... Continuano le nostre proteste estreme per chiedere il trasferimento periodico intermunicipale, tra un municipio e l'altro, di Roma, dei vigili urbani indipendenti di uffici tecnici comunali. Questo per garantire trasparenza e imparzialità nel trasferimento delle proprie funzioni, a garanzia dei cittadini e a garanzia della pubblica amministrazione, come garantito appunto dall'articolo 97 della Costituzione italiana. La nostra richiesta è di trattare i dipendenti di questi compatti lavorativi ogni tre anni, però questa richiesta si è arenata nell'ufficio del sindaco alemanno. Dopo aver rincassato diversi pareri positivi da parte di alcuni presidenti di municipio, come per esempio il presidente del municipio di Giorgio Zericesimo, dove ci troviamo appunto, siamo a stare rispetto all'ufficio della città comunale, una sala consigliare appunto del Zericesimo municipio, e dopo aver rincassato anche il parere positivo del condivisibile, diciamo, la condivisibilità di questa nostra iniziativa da parte del presidente del Zericesimo municipio, Giacomo Vizzani, a questo punto abbiamo incontrato anche il vice comandante generale di Vigilipari, Diego Porta, che al nome del comandante generale ci ha dato in qualche modo un parere positivo anche per l'operazione intermunicipale per Quadranti. La richiesta si è arenata, il beto dagli uffici del sindaco alemanno, o meglio, dell'assessore al personale Enrico Cavallari, che sta rispondendo con un silenzio assordante alle nostre richieste, richieste d'incontro per valutare questa situazione. Purtroppo la corruzione di questi comparti lavorativi dilaga, è un fenomeno dilagante, non siamo noi a dirlo, ma sono le proghe giudiziarie, e abbiamo da tempo già annunciato di tenere responsabile politicamente il sindaco alemanno tutta la sua giunta di eventuali reati perpetrati da questi comparti lavorativi, da questi dipendenti. Perciò vediamo ogni tre anni trasferimenti periodici dei vigili urbani da un municipio all'altro, e ogni tre anni dipende dagli uffici tecnici comunali. A questo punto la nostra protesta non si fermerà, abbiamo già fatto molti incatenamenti, diversi siti istituzionali, giornali, eccetera, non si fermerà assolutamente fin quando il sindaco alemanno non ci darà questo incontro, e come sono stati già altri funzionari, autorità del comune, comunali, che hanno ritenuto condivisibile questo nostro progetto. Ripeto, garantire infarzialità e spredamento delle funzioni di istituto da parte di vigili urbani e dipendenti di uffici tecnici. Ci sono alcune mele marce, che purtroppo si lasciano andare a comportamenti pochissimi e illeciti, e la nostra protesta è mirata a garantire sicuramente i cittadini e la pubblica amministrazione, ma soprattutto gli stessi dipendenti, che sono la stragrande maggioranza, appunto, di vigili urbani e degli uffici tecnici, che sicuramente compiono il loro dovere con abbenegazione e con grande attaccamento alle istituzioni, grande senso delle istituzioni. Perciò non possiamo prescindere, appunto, per quanto ci riguarda, da questa nostra richiesta. Chiediamo ai cittadini di continuare a denunciare queste nostre violazioni da parte di questi comparti lavorativi. Noi abbiamo sposato questa causa, la porteremo sicuramente avanti. Ripeto, per garantire anche il prestigio e l'immagine di questi comparti lavorativi, perciò corpo di polizia municipale e uffici tecnici comunali, affinché la trasparenza e l'imparzialità vengono garantite a tutti i cittadini e non ci siano più reati di questo tipo.